Come sapete l'amministrazione comunale ha tutta una serie di competenze che sono le più svariate, che abbracciano a 360 gradi quella che è la vita dei cittadini. In particolare però ci concentriamo poi su alcune cose, molte di queste sono le collaborazioni con gli enti superiori che vorrei ringraziare davvero, partendo dalla regione Piemonte dove ci ha dato un supporto davvero grosso. La settimana scorsa sono arrivati 50.000 euro per la frana di figlia, durante l'anno è arrivata un'altra frana di strada crosa di 80.000 euro di contributo, ma i contributi per la mostra della ceramica, gli appoggi che ci dà comunque su tutta una serie di argomenti. Tutti sul sociale bene o male ci confrontiamo spesso con la regione, qua ci sono Alessandra e Mariangela che seguono, e sono i due, proprio perché ci rendiamo conto che le difficoltà della società, soprattutto dopo il Covid sono aumentate molto. Questo lo vediamo anche dal punto di vista proprio comportamentale delle persone. Io personalmente ero abbastanza persuaso, avevo l'idea che dopo il Covid avrebbe comunque in qualche maniera, ci avrebbe reso un po' più tranquilli, un po' più buoni, avrebbe reso il nostro pensiero un po' più a guardare verso con tranquillità la vita, in pace tra di noi, invece così non è stato. Questo è. Quindi dicevo la regione, quindi è partito, avete visto, l'acquedotto di Valle da parte della SMA, che interesserà di molto la città di Castellamonte, ci attraverserà praticamente da Spineto fino a Auzegna. E poi con il Talgas abbiamo quasi terminato il lavoro di posa dell'occupazione, l'occupazione è stata posata, debbono fare gli asfalti, ma ormai il tempo non è più questo, per andare a campo il muriaglio. E poi ho lasciato per ultime due cose, due enti. Uno è la città metropolitana. Con la città metropolitana, vabbè, a parte il mio impegno personale e in qualità di consigliere delegato, però, insomma, è partito finalmente l'iter per questo contributo su PNRR che riguarda il vecchio ospedale e su questo ci stiamo confrontando con i progettisti, però, insomma, noi contiamo di iniziare i lavori già nella prima metà dell'anno 2024. Avete visto che abbiamo portato a casa la rotonda di Sant'Antonio. Parlando di futuro, abbiamo avuto la proroga per la rotonda di Spineto. Perché? Perché noi vorremmo prima far passare i tubi dell'acquedotto e poi realizzare la rotonda, altrimenti facciamo la rotonda e poi la rompiamo per far passare i tubi dell'acquedotto, non è una buona pratica, non sarebbe una buona pratica. E poi, ma questo riguarda un po' tutto il Canavese, riguarda anche la Valle Sacra, abbiamo asfaltato un po' di strade. Hanno riaperto ieri la strada, la provinciale che da campo va verso Muriaglio per la messa in sicurezza, che era un'opera che si aspettava da anni e ieri è stata finalmente riaperta, e poi un milione e quattrocentomila euro di lavori che sono in corso al liceo 25 aprile faccio, che è un efficientamento ed una messa in sicurezza dal punto di vista antisismico, quindi insomma un bel lavoro. Tra l'altro abbiamo recuperato delle aule perché il nostro liceo sta andando molto, molto bene. E quindi grazie a Città Metropolitana, grazie all'Unione Montana-Valle Sacra, con la quale abbiamo un proficuo rapporto, con la quale eseguiamo anche lì tutta una serie di lavori, chiami di manutenzione ordinaria con i soldi di Smart, che cubano circa quattrocentomila euro per tutta la valle all'anno, però insomma un po' di lavoretti da questo punto di vista li facciamo. E poi parlando della cultura, invece, Tre Terre Cultura Barra Turismo, Tre Terre Canavesane, Morena Ovest, Canavesse 2030, Agenzia per lo Sviluppo del Canavesse, regione stessa che ci sostiene molto, Su Visit Piemonte vedo l'ATL, che insomma spesso recensiscono la città di Castellamonte e la promuovono quando ci sono i nostri eventi. Ecco, con loro stiamo facendo, soprattutto con le Tre Terre, stiamo facendo un grosso lavoro di promozione e di sviluppo del territorio che, voglio ribadire, non è chiuso ai tre comuni, ma come avete visto abbiamo lavorato con Cavuso quest'anno, lavoreremo con altri enti e con altri comuni nei prossimi anni. Dopodiché nel 2023 abbiamo terminato i lavori dell'antincembio alla scuola a Cognievo, cioè quindi noi dall'elenco capirete che guardiamo a 360 gradi gli interventi sulla città, cioè non facciamo interventi mirati, facciamo interventi a 360 gradi, quindi la scuola, l'antincembio della scuola a Cognievo, ma sono in corso i lavori di efficientamento energetico dell'elementare di Spineto, che credo, vero Teo, nei prossimi giorni dovrebbero finalmente sostituire i serramenti. Abbiamo candidato con il GSE il termine, finalmente, dell'efficientamento energetico e della messa in sicurezza della scuola media cresso con il GSE, con un progetto da circa 2 milioni di euro, e lo vedrete nel bilancio con Patrizia in 30. c'è ancora in corso, siamo in graduatoria con un progetto da 2 milioni e 800 mila euro sull'elementare, sulla Cognievo, quindi stiamo, insomma, stiamo lavorando a 360 gradi. E poi abbiamo terminato Palazzo Botton, quindi è arrivato il nostro ossessore alla cultura, abbiamo terminato finalmente i lavori a Palazzo Botton, adesso partiranno, finalmente, cominceremo a progettare e a far partire gli allestimenti di Palazzo Botton. Tornando a Bomba le scuole, invece, abbiamo fatto tutta una serie di tindeggiature alle elementari di Alconiengo, alla Materna Giraudo, sia interne che esterne, e poi abbiamo ultimato delle asfaltature che riguardavano il 2022 nel concentrico e nelle frazioni, ma ne abbiamo già iniziate altre che riguardano i BIM, soprattutto a campo e muriario, che dovrebbero essere quasi terminate. Dopodiché, io credo che, adesso col freddo non possiamo dirlo, perché non va freddo, però abbiamo appaltato una serie di altre asfaltature in diverse frazioni. Quindi ci sono tutta una serie di cose anche sul versante di abilità. Non sto a citare tutti i lavoretti, la segnaletica orizzontale, quelle cose lì che sono lavoretti, diciamo così, più di manutenzione. Dopodiché, dovremmo essere arrivati alla fine su due altri lavori che hanno caratterizzato pesantemente il 2023. Uno è il campo da baseball e softball, e l'altro è il canale sformatore. Finalmente, possiamo dire, dopo anni, abbiamo iniziato questa opera che comunque metterà in sicurezza la città di Castellamonte dal punto di vista idrogeologico. e non è male. Abbiamo, altro lavoretto che abbiamo fatto nel 2023, è la facciata laterale di Palazzo Andorelli. Vi ricordate la vicenda? Avevamo anticipato noi 75.000 euro per una domanda che avevamo fatta alla regione per la facciata principale. Ci sono arrivati quando i lavori della facciata principale erano terminati, la regione ci ha consentito di spenderli sulla facciata laterale questa su vicolo Martinetti. Quindi, un altro bel lavoro. E poi, sullo sport, abbiamo sostituito i canestri nella palestra Trabuco, di via Trabuco, la palestra della quale usufruiscono sia le scuole medie che il liceo. Abbiamo messo i canestri nuovi che non erano più a norma, avevano delle problematiche. Abbiamo in corso ancora l'installazione dei nuovi punti luce. Abbiamo chiuso il contratto con Enel, abbiamo... non so cosa si fa. Abbiamo... però nel contratto con Enel messo anche un pacchetto di nuovi punti luce che era fermo dal 2006. Quindi, lo abbiamo finanziato con i nostri soldi e lo abbiamo messo a... lo abbiamo messo a sistema. Hanno iniziato a posarli. Non abbiamo ancora finito. 2024, vi ho già detto alcune cose. Quindi, sarà l'anno della rotatoria di Spineto. Sarà l'anno dell'ambiamento del cimitero verso via Rivarotta perché non abbiamo più l'occuli. Abbiamo già provato la progettazione. Abbiamo fatto un mutuo come avevamo... Abbiamo fatto un mutuo Patrizia. Come avevamo detto. C'è anche una progettazione invece sui servizi igienici del cimitero che sono... Stavamo cinquant'anni che non... che non vengono mantenuti. Cioè, bisogna mettere mano a quella cosa lì. Ecco. Come vedete, insomma, di carne a fuoco ne abbiamo messa molta e ne abbiamo ancora tanta. Abbiamo tanti pensieri. Stiamo lavorando moltissimo su tutta una serie di progettazioni di sviluppo della città e delle frazioni. lasciatemi dire siamo finalmente partiti con la toponomastica quindi adesso avrà un minimo di rallentamento perché ci sono le elezioni e come sapete la toponomastica è legatissima all'ufficio anagrafe e siccome ci saranno le elezioni l'ufficio anagrafe sarà preso per quelle cose lì nella prima parte dell'anno quindi, insomma, noi approfitteremo di questo tempo per far sì che i progettisti ci facciano una proposta la discuteremo con le frazioni la vedremo come gruppo consigliare in modo tale che nella seconda parte dell'anno la si possa la si possa cominciare a mettere a terra quando meno. Ecco. Queste sono un po' le cose poi se ho dimenticato qualcosa ragazzi dite voi ma a me sembra che insomma stiamo andando verso una riqualificazione della città e non ho detto però un altro importante lavoro che è la riqualificazione del giardinetto qua in Piazza Martiri della Libertà che me l'ero dimenticato in realtà è stato eseguito quest'anno quindi una bella riqualificazione dove abbiamo ricevuto molti complimenti da parte dei cittadini abbiamo dato un po' di luce alla piazza e per quanto riguarda tornando a bomba sul futuro insomma sapete che stiamo per dovremmo concludere l'acquisto del mulino dovremmo ci stiamo confrontando con la regione sul sito stazione ex stazione caricatore e sedine ferroviario ci stiamo confrontando e siamo andati adesso a fare gli auguri all'istituto Domenica Romana sul vecchio istituto Domenica Romana ci sono altre cose che bollono in pendola che però vogliamo avere un po' più contezza per poter cominciare a dirle io chiudo qua augurando a tutte le famiglie a tutti i castellamontesi ma a tutti i canalesani e a tutto il mondo auguri di una sereno Natale di un santo Natale di un Natale di pace soprattutto speriamo però come ho avuto modo di dire anche al 4 novembre il Natale di pace che avevo detto nel 4 novembre precedente sarà un Natale con una guerra in più quindi non pace in più ma guerra in più e questo non va bene evidentemente ecco e dopo di che auguro un proficuo e fermido 2024 a tutti quest'anno abbiamo preso il contributo di circa 250.000 euro che sono stati distribuiti per i 4 comuni il bairro Cattellamonte Alie e San Giorgio abbiamo dato mi pare che abbiano già avuto il contributo ai commercianti che hanno avuto l'opportunità di partecipare per poter prendere questo contributo a breve ci sarà un'altra manchina smart da posizionare nel luogo della città e quindi anche questo per parte delle industrie del commercio quindi volevo veramente ringraziare anche gli uffici per aver lavorato per poter portare a termine anche questo progetto nato sui 4 comuni niente volevo profittare anche comunque parlando sempre di commercio ci sono delle manifestazioni in atto che nel sabato pomeriggio si svolgeranno con l'occasione anche per ringraziare chi comunque ha una mano dall'associazione Alpini il gruppo Alpini di Castellamonte la Proloco ma soprattutto volevo ringraziare Arte come l'associazione il capitanato da Carlo Tesoli e comunque tutti gli anni mi dà una grossa mano per sì che queste manifestazioni vengono fatte nel migliore dei modi con l'occasione per ringraziare tutti tutti voi vi auguro un buon Natale ma soprattutto un buon Capodanno a tutti quanti grazie intanto come amministrazione siamo contenti perché continuiamo ad avere riflettori accesi su quello che è il contratto di Tecno Service siamo e lo dico con molta tranquillità l'unico comune che continua a battere per la regolarità di questo appalto per avere conoscenza per avere la regolarità di tutto quello che è stato messo sulla gara dell'appalto un lavoro impegnativo che però vedo che giorno per giorno grazie anche devo dire a una collaborazione sia del CCA che un po' per volta anche di Tecno Service incomincia piano pianino a dare i suoi frutti non è ancora tutto fatto però questo sicuramente mi sembra che abbiamo incominciato ad avere a metterci sul binario giusto e l'altra cosa che si sta lavorando e lavorando anche bene e riguardo alla discarica di Vespia continuano i conferimenti però la procedura e tutto quello che è stato fatto sul sito è sempre controllato dall'amministrazione in più dal mese di aprile e maggio è stato attivato il percolato dotto questo si dà una tranquillità ai proprietari del sito in questo momento perché ovviamente non hanno più da spostare con i medicami e anche a noi per il futuro della discarica avere un percolato dotto ci mette in una situazione di maggiore tranquillità perciò volevo fare anche io gli auguri a tutti quanti di un sereno Natale sappiamo sappiamo che il territorio ci sta impoverendo ogni anno un po' di più una delle possibili risposte a questo impoverimento è studiare nuovi mestieri sulla scia del turismo e della cultura noi come amministrazione globalmente cerchiamo di dare visibilità alla ceramica di Castellamonte al territorio di Castellamonte alla rete sentieristica di Castellamonte all'enogastronomia e crediamo che questo possa sostituire se non in toto magari un pezzetto anche della crisi economica che vivono alcune aziende la mostra della ceramica del 2024 si terrà dal 24 agosto al 15 settembre è già iniziata la collaborazione con la Cina come paese ospitante che ha visto anche il viaggio del nostro sindaco nella terra del dragone la collaborazione con le scuole sono continui e costanti vengono finanziati anche tanti progetti che partono dalle scuole e altri che vengono proposti dal comune a inizio dell'anno nuovo dovremmo rinnovare il consiglio comunale dei ragazzi che è stata un'esperienza positiva anche degli anni scorsi e così come è continua e costante la collaborazione con le associazioni sportive che rappresentano una fetta importante anche di occupazione dei nostri ragazzi occupazione del tempo libero dei nostri ragazzi con tutti i valori positivi che lo sport si porta presso come ha detto il sindaco sono stati fatti anche diversi investimenti sulle parti strutturali ce ne sono come in ogni ambito ancora tanti da fare nel nuovo anno cercheremo di lavorare per recuperare più fondi possibili da investire in ogni ambito con quanto detto spocanzi dal sindaco e aggiungere solo alcune cose per essere più precisi noi siamo molto preoccupati perché il 2024 è l'anno che a gennaio vedrà la scomparsa della misura del reddito di cittadinanza che era una misura universale almeno così era stata progettata e creata e verrà sostituita con la segna di inclusione una misura che perde appunto questa caratteristica di universalità e spetterà dalle notizie che ci arrivano al momento anche se in realtà la definizione precisa al 100% ancora non c'è sono due familiari con il loro interno o un componente disabile o un componente minore o un componente over 60 oppure comunque dei componenti con dei disagi sociali certificati dai servizi sociali comunali in questo caso il consorso del 2028 è una cosa che ci preoccupa molto su cui dovremmo lavorare ma dovremmo soprattutto essere capaci di trovare fondi e andare anche a battare cassa da città metropolitana da regione cercare di interlocuire anche col governo perché io personalmente non sono mai stato un pervento sostenitore della misura della reddita di cittadinanza così come è stata congegnata c'è però da dire che non è la soluzione cancellarla così come un colpo di spugna e caricare tutto il peso di questo lavoro sulle spalle dei comuni perché noi purtroppo ad oggi non abbiamo sufficienti risorse per far affronte a tutte le richieste che ci preverranno già il 2023 è stato un anno molto difficile abbiamo avuto tanti spratti che si erano interrotti fortunatamente sicuramente no insomma si erano interrotte durante la pandemia covid adesso sono ripresi ce ne sono stati davvero tanti a Castellamonte cosa che fino a 5-6 anni fa credo non fosse non fosse così non c'erano numeri così alti di sfratti sono situazioni che vedono come protagonisti persone di ogni estrazione non è un problema che bisogna immaginare non tocchi cittadini Castellamonte di lunghe date non dobbiamo pensare che sia un problema che tocca gli stranieri è un problema che tocca tutte le fasce della popolazione che tocca tutte le fasce di reddito il comune cerca di far fronte a queste emergenze stanziato dei fondi cerca quando vuoi di aiutare le persone nella ricerca degli appartamenti cerca di aiutare le persone con il pagamento magari delle caparre però ovviamente è un problema tale che andrà ad aumentare sempre più soprattutto quello appunto del tema casa e questa sarà una delle grandi sfide del 2024 nel 2023 abbiamo iniziato a parlarne con tutti i comuni del Consorzio CIS28 perché ovviamente un lavoro deve essere corale non può essere singolo perché appunto come dicevo prima non avremo mai le forze di agire in maniera singola e speriamo soprattutto in questo senso di riuscire a fare qualcosa per chiudere io spenderei ancora due parole per l'associazione di volontariato del territorio Castellamontese non solo quella a cui io sono più legato ma anche per la provenienza e per amore ma tutte le associazioni che si occupano di aiutare il prossimo non aiuto il prossimo non è solo l'aiuto sociale non è solo il vice rossa non è solo il vice di fuoco non è solo l'associazione nazionale carabinieri ma sono anche tutte quelle associazioni di sicuro poi ne potrò parlare meglio tra assessore Bedaz tutte quelle associazioni anche culturali che si spendono per i cittadini e per il territorio perché un territorio vuole essere vivo deve essere compartecipato e deve vedere tante persone che insieme si mettono a disposizione del prossimo quindi da parte mia di tutta l'amministrazione comunale di Castellamonte io ringrazio davvero tutte le associazioni di Castellamonte e lancio anche però un appello perché negli ultimi mesi con diversi colloqui che ho avuto modo di fare con alcuni presidenti di alcune associazioni che ora ovviamente non citerò direttamente c'è una forte fortissima sempre più forte crisi del volontariato in atto quindi il mio invito vero profondo a tutti i cittadini di Castellamonte è quello di mettersi in gioco le possibilità sono tantissime c'è veramente l'imbarazzo della scelta però l'importante è che ciascuno di noi cerchi di fare qualcosa in più a gratis per il prossimo perché è veramente quello che fa la differenza altrimenti io temo che nel corso dei prossimi anni Castellamonte ma in generale tutto il territorio canale per Castellamontese tutto il territorio italiano per avere rischio sincero di perdere gran parte della realtà che lo rendono vivo e attivo e con questo auguri a tutti quanti e buone feste